Voglio evidenziare che il dottor Marra non è un esponente politico di questa giunta, ma un dirigente dell'amministrazione da dieci anni. Faremo tutto quanto nelle nostre possibilità e per quanto di nostra competenza per fare luce, collaborando pienamente con la magistratura. A partire dalle nomine, per quanto abbiamo sempre chiesto il supporto dell'Avvocatura e dell'ANAC. Sottolineo peraltro che già nel 2013 uno dei primi atti che abbiamo depositato io e gli altri consiglieri del Movimento 5 Stelle è stata una mozione contro gli affitti d'oro di Scarpellini. Questo ha consentito di far risparmiare milioni di euro ai cittadini romani.